Se volete farne uno, tenete l'uovo condomare, appoggiate sopra questo, lo tenete, poi schiacciate e poi viene via. Questo poi li appoggiamo qua, a volte rimane direttamente dentro e a volte lo togliete poi voi col dito. L'unica controindicazione è il fatto che se io poi utilizzo il suo guscio come contenitore lui era già pieno con il suo uovo, poi vado ad aggiungere gormaggio, pistacchi e tutto il resto quindi mi avanzerà il 50% di questo impasto. Quindi o lo mettete in bicchierini e poi lo cucete nello stesso modo nel forno oppure lo utilizzate magari per una torta salata, un po' di sfoglia, tanto in frigo c'è sempre qualche verdura, non si sa bene cosa fare.